gli ingredienti per fare un buon croccante sono mezzo chilo di mandorle con la buccia mezzo chilo di zucchero cannella e succo di limone vi occorrono inoltre una vaschetta alluminio dell'olio una pentola dal fondo alto e dei coltelli ponete la pentola su un fuoco vivace e quando sarà calda versatevi lo zucchero il succo di limone e poi le mandorle e incominciate a girare vedrete che con il tempo lo zucchero incomincerà a sciogliersi diventando di un colore ambrato il fuoco deve essere sempre vivace e voi dovete continuare a girare se vi accorgete che il croccante incomincia a fumare troppo abbassate un po la fiamma per evitare che tutto si bruci il croccante deve rimanere di un colore ambrato alla fine di questo periodo aggiungete la cannella che avrete prima polverizzato con un po di zucchero adesso il croccante può essere versato nel recipiente di alluminio badate bene a stenderlo e a eliminare una volta che si è un po rappreso l'eccesso di olio una volta che il croccante è solidificato sollevatelo e ponete nel recipiente di alluminio un po di zucchero con la cannella per assorbire ulteriormente l'olio adesso il croccante può essere tagliato a pezzetti o con un coltellaccio oppure con un coltello a punta e anche per la cannella per assorbire ulteriormente Una volta tagliato il croccante verrà sistemato su piatti di portata preventivamente spolverizzati con zucchero e cannella. Adesso il croccante è pronto.